13 in prima linea! Io vado a controllarvi! Hai capito questo? Ha trovato la moglie con l'amante e gli è venuto un infarto. Speriamo che si riprenda. Facciamo un buon wine! Numero 55.427. Sono io, cioè il malato è il mio cugino, solo che ci diamo il camion ogni 24 ore. Allora, il prossimo... Infermiere, c'ho un problema. Nessuno mi considera. E' già visto a cominciare io! Il prossimo... E' arrivato mio cugino! Casugno! Dottore Lei mi deve aiutare. Io non riesco a fare la cacca. Le spiego meglio. Quello che mangio io lo caco sano. Mangio una mela? Bum! Sana! Una fettina di carne? Sana! Sana! Le lasagne? Quelle! Uno strato di pasta? Uno strato di becciamele? Uno strato di... Sana! Io voglio fare la cacca! Che devo fare? Mangi la cacca! Mangi... Così esce la... Grazie! Grazie! Signora! Del tuo mare nero nella notte scura! Io ti trovo bella... Tottina, buongiorno! Buongiorno, Pina! Fagne! Fagne! Siamo un mesefagne! Fagne! 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 Ma c'è bisogno di offendere così le persone! Tutti senti meglio i lavori! Ma che capisci, Pimma! Ecco, ero che io vi è sattuppato tutti i fognatori! E siamo un mesefagne nel nostro quartiere! Fagne! Tottina! E riuscire con mio marito! Che c'è fatto? Mi preparò ostriche, peperoncino, insomma tutte cose afronisiache! E fai i miei pazzi tutta alla nottata! E invece tuo marito chi ti preparò? Niente, con mio marito è sempre solito da me ne sono reguariata! A modernità, a ma bella verità! Totina, ma che meravigliosa? Ma Romano è un allestetista? Facciamo una macchinità niente. Non lo so. Ora ci spiamo, Mimma. Mimma! Mimma! Disgraziata, chi ti aiuta il suonare il tuo parlante? Chi c'è? Ma che equipa mia se sei solida? Comunque Romano avessi un allestetista, la macchina puoi pigliare tannina. Ma che ne sa, c'ho tannina, ma tua macchina cammina. Ma perché non ne sai niente? Se rompi avanti la macchina nella sua PR. Ma dice che non puoi pigliare la macchina, aveva potuto fare PR. Dice che non ci vuole una macchina, dice che si puzza nei PR. A mia, i PR, ci puoi mangiare nei PR. Ah, ma bella verità! Che poi mi vuole una sua macchina. Chi aveva la macchina a ruolo? Ma appunto, ma che c'è la ruolo? Tannè, ma ci sono un faccio il suo pomaro a ruolo. Casi, ma che te scusso il suo a suolo? Ma mica se ne parla ora, se ne parla da gosso. Ah, dice che eri fischio a ruolo, ma un po' cura a ruolo. Niente, dice che se te lavi i piedi è tutto a posto. A mia, chi mi scangiò per se sono angasciata? Da lei a chissà? Ma bella verità! Dice comunque che io non ho bisogno di nudo, io i Pila mi levo con la mia. Dice che non ci serve, i Pila si levano con la macchina. Che scendono? Ah, ma le faccio i sacerditi! Che scendono? Che cosa stai detto? Che sai, non c'è, non c'è un po' c'è spontaneo. Spuono tutte le lenzuola. Figurati che non poteva stare più! E mi fece venire l'esatista posto a casa. Anzi, a proposito, finisse con il suo piede. Ah! Glure che è qua! Però se le calli ti devi fare, non ti devi catamiare! Ho capito che mi stai facendo le calli che sono belle, però mi dirai, la ceretta me la fai? Un cacetta! Prima però ti devo fare la mia specialità. E qual è? Le unghie, picchicetti! Quante unghie? Ho visto, ma picchiamo professionale? Ah, non so che non so che prendiamo male. Dici che la picchia si fa un'ordineale? Io? Cioè, io devo dicendo che mi puzzano i piedi, non puzzacchiamo in la macchina e poi sbaglio a parlare io. Ah, ma bella verità! Amore, va, ma farò parlare. Amore, va, va, va! Vai, 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 va, 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 va! Ti continuo. No. 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 Ma che è? Oh, ma che fai? Ove se lo vai bere? E tu? Vieni se approfittando. Te l'ho detto per le volte, vai bere quando ti viene capito e sapoiano. Sono parru, sono chiere, sono parru, chiere. Sono l'assistente, sono l'assistente. Sono consumato, sono consumato, sono consumato. Ma io... E siamo qui per rifarti il look. Che è? Un teso è puro io. Ma come fa? Fai sedere a Mirafo, per favore? Ah, addirittura proprio l'assistente. Appoggia le tue felle scheletriche. Caparmi un serpieri, vai. Perfetto, ve lo presento, lui è Simon, il mio assistente. Pensate che ieri gli ho insegnato a usare la piastra. E come è andata? I panini tutti apposso, i toys le bruciavo tutte. Glielo hanno tenuto. Ma perché fate questo? Dai che ti faccia i capelli. I capelli, i capelli. Ti faccio i nostri. Ragazzi, ti faccio i nostri. Ah, ah, ah. Che è? Che cosa è sta cosa? Tranquilla, questa è una cis. Non mi fanno la visita. È sta cosa? Questo è un cacolo renale. Eh, fate la birra. È sta cosa? Chi suono il telefonino? Poi gli suggeriti. Chi è? Ti sa di fare una chiamata. Ma che schifo! Ah, le sorelline, queste sono Jessica e Samantha. Ah, queste qua le chiamiamo le gemelle diverse. Come mai? Perché la mia ha i stessi capelli di sua madre. E la tua? E se sta vai, beh, sua pace. Pensate che quando si depila fa un decadrata. Zonda, eh? Ma che schifo! Vabbè, non siamo qui per parlare delle nostre gemelle, ma siamo qui per rifarti il look se ti mette la base. Mi provo, ragazzi. Questo look l'abbiamo chiamato Christophe Simon. Ma questa è acqua sporca! E perché noi non siamo rufagni! Ah, poi! Va bene? Allora, rendiamo questo blocco rosso un attimino più interessante. Stasera ci sono le ragazze della Fondazione Ricerca Fibrosicistica, a cui facciamo un applauso perché lavorano per questa malattia che ormai è diventata la più grave e più diffusa in Italia. Che cosa fa la Fondazione? Promuove e finanzia la ricerca scientifica, forma giovani ricercatori e diffonde la conoscenza della malattia tra la popolazione, che è sempre la cosa più importante. Cosa possiamo fare? In sala possiamo acquistare queste uova di Pasqua che, insomma, aiutano la Fondazione. E per tutti coloro che sono a casa trovate un IBAN alla quale potete poi destinare il 5 per 1000 per la fibrosicistica, sempre a Fondazione Ricerca Fibrosicistica. Grazie Sicilia Cabaret per il sociale. Detto questo, torniamo ad essere i fanghi che siamo con il blocco rosso, vietato ai bambini, vietato a tutti coloro che possono essere un po', come dire, si possono... Suscettibili. Suscettibili, che possono essere suscettibili e quindi cominciamo, vai! Eeeh, che non schiuma? Vabbè, dai, Gianni. Salve. Pasta con la colla attacca. Di chi era? Com'è la pasta con la colla attacca? Non so po' lavare in mossa. Di chi era? Di nessuno. Nessuno? Allora sai che il passo ma poi tagga se c'è un codice. Il blocco rosso, potrò trovare anche cose gradibili. Facce bene peccatori. Perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, ho peccato. Peccato. Padre, sono piromane. Mi peccato. Io appena vedo il fuoco, padre, mi è eccito. A me mi piace proprio bruciare tutto. Non passa un giorno dove non brucia qualcosa. Padre, io amo proprio addomare, addomare, addomare. Padre, che mi consiglia di fare? Papà, aspetta un piccolo impegno a me servono per addomare la rariccia. Per penitenza c'è il marietto e il mazzicacoccio le due roti di salsinza. Buona Pasqua a tutti, figlio. Ma passiamo alla musica vera. Quella che piace a tutti. A nessuno. Quella neomelodica di Salvo. Zaudo. Non applaudite. Cerchiamo di ricreare questo stile. Bam, bam. Perché non si cambia questo vestito giallo canarino? Fantastico. Storie di vita vera. Stamattina che paura Si è fermata la vettura Sognochino di l'ulura C'è il balletto per quando c'è dolore. Non riuscivo più a partire Ho pensato a cosa fare Sono sceso ad ammuttare Ai 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 Ma che cos'è? Che canzone è? Dopo quasi cento metri È arrivata una discesa Un pensiero sale su Ga, 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 ga O volante non c'è nutto Ora non si ferma più Mi misi sotto A diciotto cristiani Furo la vino Con tutti i panali A cosa sola Tocco i miei pensieri La prossima vota A Fazzaperi Brava Movimento Pertico Grazie maestro Per la tua voce Per le sue parole Lei è un vero poeta Grazie Catania Ci avete regalato Salvo Salvo Ci scusiamo con il librino Face bene peccatori Perché il peccato è peccato Avete il peccatore Padre Padre Ciamone di sto lato da Gerardo Ah Padre ho peccato Peccato A casa quando sono solo Commetto sempre atti impuri Ah mi peccato E che ci vuol fare Appena sono solo Mi chiudo in bagno Mi faccio il capito Il solitario Che posso fare Signora giocare la scuola Perché ti dovete chiusare Grazie Grazie padre Per penitenza Tra la mia maria E mi ha cattato la fumata piccata Grazie Grazie Face bene peccatore Per cortesia No no La mano non gliela diamo